Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Diverse le novità che riguardano la città di Ferrara, sia dal punto di vista dei lavori, con la prospettiva che è stata chiusa alla circolazione delle auto, parleremo anche di eventi con la serata gialla di domani, di call diretti, parleremo però anche di diversi episodi di cronaca purtroppo in questa edizione del telegiornale. Vedremo anche alcune novità che riguardano il mondo del lavoro, ma anche posti ai nidi che dovrebbero aumentare secondo un progetto lanciato dalla regione Emilia-Romagna. Ma apriamo parlando con il ritorno delle frecce tricolore a Comacchio e ai suoi lidi dopo lo spettacolo di Bellaria e Igea Marina nel Ravennate. Lo scorso fine settimana, oggi e domani, 2-3 agosto, torna la pattuglia acrobatica nazionale per il Comacchio Air Show. Oggi dalle 16.30 fino alle 18.30 si terranno le prove nei cieli di Lido Scacchi e Lido Pomposa. Poi il grande show sarà domani, mercoledì, agli stessi orari con le frecce tricolore che concluderanno il pomeriggio di spettacoli con il loro show conosciuto in tutto il mondo. Per il 3 agosto il Comune di Comacchio ha istituito diverse modifiche alla viabilità e parcheggi speciali e attese quindi a Lido Scacchi e a Lido Pomposa. Migliaia di persone già da oggi, tanti curiosi, ma domani è atteso appunto il grosso delle persone. Adesso passiamo però purtroppo alla cronaca perché è stato convalidato ieri l'arresto alle 14.00 del pomeriggio in tribunale a Ferrara per il giovane modenese di 19 anni accusato di aver investito con l'auto 4 ragazze ventenni sabato a tardanotte a Lido Spina vicino allo stabilimento Palm Beach. Una di loro è stata ricoverata ed è ricoverata in ospedale maggiore a Bologna in condizioni gravissime mentre le altre tre giovani avrebbero riportato ferite di gravità media. Il giudice ha convalidato il provvedimento precautelare e ha rimesso in libertà il giovane in attesa dell'udienza che si terrà il 15 settembre prossimo da quanto ricostruito dagli investigatori. L'investimento delle ragazze sarebbe da attribuire a cause accidentali secondo appunto chi sta indagando su quanto accaduto. Sono in corso anche ulteriori accertamenti per capire se alla guida il ragazzo aveva assunto alcolici o stupefacenti secondo una prima ricostruzione. Dopo l'impatto di 19enne sarebbe scappato ma sarebbe stato raggiunto e aggredito da alcune persone e sarebbe stato il ragazzo sottratto al linciaggio dai buttafuori di alcuni locali e poi dai carabinieri che appunto l'hanno arrestato. Ma adesso cambiamo totalmente argomento e andiamo e torniamo in città a Ferrara perché domani mercoledì 3 agosto torna la Notte Gialla in piazza municipale a partire dalle ore 19 fino alle 23.30. Presentata ieri mattina la seconda edizione del Summer Night di Coldiretti con cibo, musica e intrattenimento ma sentiamo le interviste raccolte durante la conferenza stampa di presentazione. Seconda edizione del Summer Night, un momento particolare perché voglio ricordare l'agricoltura non si ferma di fronte anche a questi eventi però noi siamo qui lieti e contenti e orgogliosi per chiamare la città proprio per questo momento di scambio degli auguri ma non solo, sarà occasione anche di fare assaggi con prodotti provenienti dalla nostra agricoltura a chilometri zero. Un momento, dicevo, di orgoglio perché siamo usciti da un momento particolare perché questa è un'annata particolare nel senso che sicuramente gli aumenti dei prodotti ha dato un po' di felicità però oggi la situazione è molto critica perché l'aumento dei mezzi tecnici, l'aumento del gasolio e tutto quello che è riguardante al problema della città che vado lieto a dire che a Ferrara non è mancata l'acqua però l'escursione termica che abbiamo in questi giorni sta provocando ingenti danni però tutto questo sarà il momento nell'inverno per poter cominciare a fare un po' il punto della situazione. Sicuramente un'agricoltura nuova perché in questi anni i giovani hanno saputo dare il giusto slancio. Sicuramente Coldiretti è un portatore anche di sensibilità del consumatore, ecco, verso il settore primario, verso i prodotti a chilometro zero e lo sta facendo con grande forza, entusiasmo, coinvolgendo nuove generazioni e lo sta facendo anche scegliendo strategicamente sia per la sede, la nuova sede via Contrari ma anche per gli eventi in piazza municipale come quello del 3 agosto. Quindi è oltre ai suoi mercati, i farmer market, sempre all'interno della città che stanno avendo un grande successo. Quindi questa strategia, questa unione, questo filo molto stretto tra i nostri produttori e invece il consumatore finale. La città è anche grazie a queste iniziative piena e viva e animata come mai in precedenza e mi fa piacere che questa dinamicità abbia in qualche modo contribuito a far sì che anche un'associazione importante come Coldiretti abbia deciso di impegnarsi ancora di più per la nostra città, per il nostro territorio, organizzando quest'anno per la seconda edizione questa manifestazione che valorizza la filiera agricola e tutti i prodotti enogastronomici e agricoli del nostro territorio. Questa grande collaborazione e il patrocinio del Comune ci fa sicuramente piacere perché insomma significa anche che la volta precedente, la prima edizione insomma ha riscontrato successo è quello che ci auguriamo noi, noi lo facciamo con tanto entusiasmo, le nostre imprese vengono con tanto entusiasmo, i prodotti sono sicuramente del nostro territorio quindi la possibilità in una sera di allegria, in una sera dove vogliamo augurare il buon Ferragosto a tutti ci possano essere anche le possibilità di assaggiare i prodotti del nostro territorio e quindi anche raccontare come vengono prodotti fatti, coltivati, questo a noi ci riempie assolutamente di gioia. Tra l'altro vogliamo continuare noi a essere molto puntuali nel nostro messaggio, noi abbiamo bisogno di esaltare i nostri prodotti, di esaltare il nostro territorio, le nostre campagne, i nostri agricoltori che stanno sicuramente vivendo in questo momento periodi non facili però la loro grande capacità di resilienza ci porta anche a organizzare queste serate quindi la facciamo proprio con tutto l'entusiasmo possibile. A partire dalle ore 19 in piazza municipale il 3 di agosto per accogliervi con tanta allegria e con prodotti di stagione e prodotti a chilometro zero ci saranno due nostri agriturismi del circuito Campagna Amica Terra Nostra, prepareranno quindi piatti a base di quinoa, panini, un piattino a base di coppia ferrarese e salame all'aglio, dolci. A partire invece dalle ore 21 all'interno di piazza municipale ci saranno anche i beghi per caso e la session argentana che ci delizieranno con musica di intrattenimento. Saranno presenti anche animazione per i bambini. Per coloro che verranno vestiti in total look, colore giallo, sarà offerto loro il dolce. E cambiamo argomento, è cambiata la viabilità in una zona nevralgica vicino al centro città e il cantiere sulla prospettiva sta proseguendo. Vediamo allora che cosa cambia. Lunedì è entrato nella seconda fase l'intervento per il restauro della prospettiva di Corso Giovecca finanziato dall'amministrazione con circa 85 mila euro e avviato a partire da fine giugno per consentire l'intervento nella porzione centrale della struttura si è resa necessaria la chiusura al traffico. Agosto ritenuto il momento più consono vista la diminuzione dell'impatto del traffico in questo periodo estivo, l'arco che dovrebbe essere riaperto prima dell'inizio della scuola. Non sarà possibile transitare quindi sotto la prospettiva in entrambe le direzioni di marcia e i veicoli provenienti dal centro saranno deviati sul percorso di via Carlo Caneva via Cisterna del Follo verso viale Alfonso Primo d'Este. Per l'accesso a Corso Giovecca da parte dei veicoli diretti verso il centro città è invece consigliato l'utilizzo di via Rampari di San Rocco in direzione Fossato di Mortara. In via Caneva sarà modificata la viabilità attualmente in vigore. Procedono così lavori della prospettiva che prevedono la rimozione delle erbe infestanti, l'idropulizia, la riparazione delle lesioni che compaiono sulle facciate e l'utilizzo di tecniche che faranno trasparire il colore originario della struttura. Ancora a Cronacat a Feruglio in centro a Ferrara tra via San Romano all'angolo con piazza Trento Trieste sabato scorso nel tardo pomeriggio quando due frequentatori di bar sarebbero venuti alle mani e uno dei due avrebbe riportato una ferita da taglio sul petto e l'altra persona invece avrebbe riportato ferite alla testa. Tutto sarebbe nato da un presunto furto, rissa che si sarebbe allargata da altre persone. Intervenute poi diverse pattuglie delle forze dell'ordine oltre a due ambulanze. Un'automedica assisto con grande preoccupazione a questi accadimenti ha detto l'assessore alla sicurezza di Ferrara Nicola Lodi il quale aggiunge che con la polizia locale si starebbe cercando di affrontare il tema della sicurezza effettuando controlli straordinari e ordinari delle zone e delle attività commerciali più sensibili. E ora parliamo di persone sospette che fotografano case. Sono quelle segnalate al comune di Ferrara in questi giorni che non ha dato nessuna autorizzazione ad adottare questa pratica alla cittadinanza e quindi invitata da parte del comune a non aprire le case. Ma sentiamo cosa sta succedendo. Attenzione ai rilevatori statistici abusivi che fotografano le abitazioni con la scusa di raccogliere dati per il censimento. Nessuna autorizzazione è stata prevista dal comune di Ferrara. La cittadinanza è invitata a non aprire le case e ad informare subito le forze dell'ordine. Negli ultimi giorni l'amministrazione comunale di Ferrara ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini in merito a persone che si sono qualificate rilevatori statistici che fotografavano gli esterni delle abitazioni utilizzando un tablet con la scusa di raccogliere dati relativi al censimento. A tale proposito l'ufficio statistica comunale segnala che tali individui non sono né dipendenti né rilevatori autorizzati dal comune di Ferrara. La cittadinanza è pertanto invitata a prestare particolare attenzione non consentendo l'accesso di estranei non qualificati nelle proprie case ed informando con la massima sollecitudine le forze dell'ordine, carabinieri o polizia. Per ogni ulteriore informazione contattare l'ufficio statistica del comune di Ferrara. E-mail statistica chiocciolacomune.fe.it Telefono 0532 41 80 59 Lavoro l'Istat ha rilasciato i dati sull'occupazione che secondo l'Istituto a giugno sarebbero saliti a oltre più 60% record dal 1977. A giugno 2022 il tasso di occupazione è salito a oltre il 60% valore record dal 1977. Quello di disoccupazione è stabile all'8,1% e il tasso di inattività scende al 34,5% lo segnala l'Istat sottolineando come dopo il calo registrato a maggio il numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti permanenti superando nuovamente i 23 milioni rispetto a giugno 2021. Il numero di occupati sale dell'1,8% soprattutto a causa dei lavoratori dipendenti che a giugno 2022 ammontano 18 milioni e 100 mila. Il valore è più alto da oltre 40 anni, il 1977, primo anno della serie storica. La crescita dell'occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione sia delle persone in cerca di lavoro sia degli inattivi. E ora parliamo di sanità, parliamo del bollettino coronavirus, siamo in attesa dei nuovi dati odierni, dati riferiti al bollettino appunto del covid. Intanto sono saliti a 1.400 i decessi nel ferrarese e sul territorio registrati da inizio pandemia. Sentiamo. Il virus continua a correre a Ferrara in tutto il territorio provinciale. Sono 310 i nuovi casi segnalati nell'ultimo bollettino pandemico a fronte di 416 tamponi refertati. Il virus non arresta la sua corsa ma va sottolineato che il 96,7% dei casi attivi si trova in isolamento a casa con sintomi lievi e per questo non richiedono cure ospedaliere. Resta elevato anche il numero dei nuovi guariti, 299. Stabile la pressione ospedaliera. Al Sant'Anna di Ferrara a Cone i posti letto occupati sono 44 e nessun paziente si trova in terapia intensiva. Andamento identico per gli altri ospedali della provincia. 55 posti letto occupati al delta di Lago Santo, 19 al Santissima annunziata di 100. Il territorio estense però piange altre 5 vittime per complicanze da Sars-CoV-2. Si tratta di un uomo di 74 anni di Terre del Reno, un 74enne di Argenta, un uomo di 87 anni di Ferrara ed un 69enne di 100. A questi si deve aggiungere una donna di 72 anni di Bologna ma ricoverata e deceduta all'ospedale del Delta. Da inizio pandemia in totale sono 1.400 i decessi registrati nel territorio estense, 672 donne e 728 uomini. In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.599 nuovi casi di coronavirus su un totale di 7.807 tamponi refertati. In regione si registrano altri 18 decessi fra i quali un uomo di 61 anni in provincia di Rimini. Stabili i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna che sono 51 mentre aumentano i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. Sono 1.772, 48 in più in 24 ore. Aumento delle domande di posti nido in Emilia-Romagna è arrivata pochi giorni fa una misura da parte della regione che avrebbe aggiunto altri 7 milioni di euro solo per attivare nuovi posti e abbattere le liste d'attesa. Allora sentiamo le interviste durante la presentazione di questo progetto. Per la prima volta utilizzeremo decine di milioni di euro del Fondo Sociale Europeo nei prossimi anni per aumentare le opportunità di posti negli asili nido. I comuni possono accedere ai fondi del PNRR per realizzarne di nuovi dal punto di vista murario e strutturale. Noi consegniamo tantissime risorse ai comuni per abbattere le rette, cioè il costo per ogni bambino trasferendo risorse regionali di rette. Più in generale vogliamo aumentare i posti di nido per permettere alle famiglie, in particolare alle mamme, alle donne, di poter lavorare lasciando i bambini non in un parcheggio ma in una vera e propria agenzia educativa di qualità del territorio. È un finanziamento per creare nuovi posti, ampliare l'offerta e quindi abbattere le liste d'attesa ma anche per chi è in condizioni, penso ad alcuni territori di montagna, di attivare nuovi posti e queste risorse lo aiuteranno. Saranno 4.500 euro per nuovo posto attivato nell'ambito del sistema integrato naturalmente pubblico o privato convenzionato a condizione che sia applicato il sistema tariffario comunale quindi ecco è una doppia valenza, abbattimento delle liste d'attesa ma anche abbattimento delle rette. Sappiamo che è il primo modo di contrastare le diseguaglianze e le povertà educative ma anche uno strumento fondamentale di crescita per le bambine e i bambini per rendere più solidi i loro percorsi educativi e per aiutare anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in questo modo lo sappiamo anche l'occupazione in particolare femminile. A proposito di giovani, tenda Summer School al Via, ieri a Villa Mensa nel Coparese allora vediamo il video realizzato dagli organizzatori. Benvenuti all'ottava edizione del tenda Summer School, campus internazionale per adolescenti. Siamo nel cuore dell'Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, a Villa La Mensa di Copparo. Qui 90 ragazzi tra i 14 e i 24 anni, provenienti da tutto il mondo, Italia, America, Portogallo, Grecia, Ucraina e Belgio si ritrovano per studiare teatro, commedia dell'arte e comicità contemporanea. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Sicuramente la giornata di oggi è molto importante, l'edizione di quest'anno è molto importante, l'ottava proprio perché in uno scenario internazionale così difficile stiamo dando un segnale di essere più forti ancora sul nostro territorio. è proprio questo segnale di 90 ragazzi che stanno insieme da tante parti del mondo diverse e che per una settimana avranno la possibilità di scambiarsi le gioie, le emozioni, i desideri, le loro speranze, le loro visioni di vita nel rispetto della propria diversità, ma tutti insieme, è assolutamente fondamentale ed è un segnale concreto di come le differenze possono stare insieme. Il suo nome è Circo, ha 27 anni, viene da Hollywood Los Angeles ed è qui perché vuole diventare un attore. What I expect to gain from this is a lot of techniques, a lot of skills, being open with one another and just being vulnerable, letting yourself go and you'll be surprised that what you can create with that. Si aspetta di imparare tante nuove cose, tecniche, tante abilità, si aspetta di essere aperto come attore e anche come persona e quindi si aspetta di imparare tante nuove cose. Mi chiamo Giona Sofia, vengo dalla Calabria, ho 17 anni e sono venuto qui al Tenda perché ci sono ritrovato, portato da un mio amico. Come è stato il tuo arrivo al Tenda Summer School? Tornare per la seconda volta in un posto così è stato emozionante, ritrovare vecchie conoscenze, trovarne nuove, è una bella esperienza. Ma devo mettere che la recitazione mi sta cominciando ad appassionare sempre di più, è stata una scoperta anche questa qui. Che cosa ti aspetti? Di migliorare sicuramente e anche di conoscere nuove persone con cui potrò passare una bellissima settimana. Il primo giorno è concluso, ma vi aspettiamo domani per il secondo giorno del Tenda Summer School. Tenda Summer School! Questo quindi il video realizzato dagli organizzatori del Tenda Summer School. Con questa edizione del telegiornale è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti! Grazie a tutti.